Possiamo dire qual è stato il cantiere che le ha dato più emozioni? La necropoli che abbiamo scavato nei primissimi anni 2000 davanti alla chiesa di San Savino. Per l'appunto una necropoli in cui si sono sovrapposte diverse ere, è stata utilizzata per molti anni, in cui abbiamo trovato scheletri anche molto ben conservati da un punto di vista dell'anatomia e siccome è stato uno dei miei primissimi cantieri ha avuto su di me un effetto abbastanza duraturo nel tempo, quello forse a cui sono un po' più affezionato. Da un punto di vista strettamente scientifico invece sicuramente quello più particolare è stato lo scavo che abbiamo fatto a Ponte Nure per l'alta velocità, per la TAV, dove abbiamo trovato una villa romana di diverse migliaia di metri quadrati che ha avuto una continuità di vita dal primo secolo avanti Cristo all'ottavo dopo, quindi insomma una cosa abbastanza importante da un punto di vista scientifico. Una professione affascinante, l'archeologo ha un contatto diretto con la storia che si può manifestare in un prestigioso scavo come in un piccolo cantiere di periferia. La CNA, Confederazione Nazionale Artigiani, nell'ambito dei mestieri artistico-tradizionali ha individuato cinque categorie che sono ceramisti, liutai, orafi, restauratori e archeologi. Il portavoce nazionale di quest'ultimo coordinamento dal 2014 è il piacentino Giovanni Rivaroli. Al momento la categoria sta vivendo una fase di cambiamento legata al nuovo codice degli appalti e alla riforma delle soprintendenze. Noi auspichiamo con forza che nella riforma della soprintendenza vengono fatti salvi i principi espressi dalla legge 110-2014 in materia di professioni non regolamentate nell'ambito dei beni culturali in cui viene affermato con grande chiarezza che per tutto ciò che attiene le attività di tutela, valorizzazione, conservazione e fruizione del patrimonio dei beni culturali tale attività debbano essere gestite esclusivamente da archeologi per quanto attiene alla parte di archeologia, restauro per quanto riguarda la parte di conservazione e via via bibliotecari, archivisti, antropologi, ciascuno nel suo ambito di competenza. È un lavoro che consiglierebbe a un giovane? Direi assolutamente di sì. Tanto più in questo periodo in cui anche lavori magari considerati più sicuri e tradizionali stanno vacillando, quindi tanto vale seguire il cuore. Se qualcuno ha questa passione gli raccomando vivamente comunque di perseguirla perché effettivamente dà molta soddisfazione.